bella a tutti ragazzi sono mi di noi bentornati sul mio canale con un nuovo video sono tornato in compagnia di velox in live ciao ciao bella ciao siamo su dominio ci chiamo oddio eccolo velox partigianissimo perfetto abbiamo in squadra aziz filippo 2701 è abanillero abanillero ma cos'è tutta sta gente che si dà i nomi e al nome dopo numeri a caso ok la tua data di nascita ok la data di nascita della tua ragazza ma perchè tutti sti numeri cazzo ok intanto campero io vediamo un po' come muoverci di qua un po' penso siano tutti qua su C ti sbagli? no non c'era nessuno neanche lì su C muori? ma che modalità hai? ah è dominio ho piazzato una dominio tattica perchè sono confermata stavo cercando di confermare le piastrine connessione interrotta ok è tornata ad andare anche te aveva fatto connessione interrotta Leo? no ah capisci? andiamo a prenderci ma chi è che mi sta sparando? ma l'alleato mi sta il tuo compagno ma l'alleato mi spara e io mi giro tipo spaventatissimo vediamoci dai io sono inutile sono ancora 1-0 non trovo la gente vediamo un po' uscendo da qua in head glitch si riesco a fare una killozza no mi ha rubato tutti i veloxei no ok non ci riesco ragazzi non usavo l'alleato da settimane ti giuro no vabbè da giorni con una killozza anzi neanche con una killozza lo amo oh porca di quella vacca oh assurdo non trovo un'anima vanno già quitando come perdiamo charlie scusa ti do un wav così ti chiarisco la situazione io ti do un vizat ti basta grande questa ti ha un pochettino spento ti do un wav così io ti do un vizat ma hai pisciato come dici te questa è una di quelle situazioni proprio da occhialino nero capito da da come da un viziat come da un viziat tag life nota che ho raccolto un m8 da terra oddio mi switcho praticamente sono a 25 punti da un altro vizat tt cazzo quello la mi stava per spegnere aspetta che tiro l'ailstorm oh cazzo eh sono tanti però vanno via una kill easy altro vizat no 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 minchia mi hai salvato lo sai con questo vizat probabilmente grande oddio non so come mi sono salvato io proprio lui minchia grande perché mi hai salvato anche perché questo infame mi stava ammazzando siamo 11-0 e 16-0 stiamo assolutamente distruggendo continua a riciclare le streaks te Leo io sto sicuro che se sto qui muoio quindi me ne andrò in breve il tempo di ammazzare questo simpaticone l'alleato levati madonna l'alleato raga sta per farmi morire si sta mettendo in mezzo al cazzo questo Filippo te lo dico mi sta per far morire mannaggia a lui ma ce la facciamo ad entrare qua dentro la vedo dura ho bisogno di munizioni tra l'altro entri Filippo porca troia grande grazie Filippo io tra un po' con un altro video no raga sono morto a 13 sono morto a 13 in una maniera coglionissima perché mi è finito lo shite mi è finito mi sono mannaggia giuda a 19 perché è finito il visat mancava il madonna non muore tranqui è entrato per ammazzarmi tranqui è entrato e mi ha ammazzato due volte in un secondo e poi è tangui ok basta questa è la parità da devasto te lo dico ma dov'è tangui? ma fai vomitare lì fermo su bravo 22 14 2 stanno giocando davanti no vabbè c'è stata quella cosa per sì bravo se avessimo la stricazione che usare quella cosa che ti fa esponare dove muori ma usato al momento giusto non è che ti ammazzo in centro moda rispondi lì ti ammazzo un'altra volta ovviamente morto di nuovo morto di nuovo da coglione sto morando abbastanza da stupido le poche morti che sto facendo io c'ho la data che mi troverò addosso sì sì vero anch'io cazzo mi si appiccicano non so se gli in fondo sicurezza ma sai tipo non so se hai mai visto quei video dove ammazzano tutti i pulcini li mettono dentro una scatola sì no non ricordarmi quel video ma la cadro che tipo uguale uguale cioè i compagni fanno fanno la andiamo su andiamo a prendere A i compagni fanno la stessa identica cosa si mettono tutti lì e ti si schiacciano e ti spampolano ti senti un buon pulcino sì sono mi dino il pulcino ma questa era molto imbarazzante troppo ok magari ah uno l'ho preso ok ne ho cerrato di nuovo tangui 65 punti dal visat cazzo raga quest'arma si mettono ansima un po' di più è stato un po' basso comunque a me sì dopo vedo di sistemare però sono a 150 punti dal visat aspetta che vedo se ho il microfono messo male grande quelli quittano dopo che mi hanno massato in serie sono usciti anche dei compagni però è ok un compagno andiamo a prendere charlie che tanto sta finendo il round vediamo se riusciamo a prenderlo non rientrare faccio la streak minchia tangui tangui entra per ammazzarmi ragazzi ok prendiamoci prendiamoci prendiamo merda è finito il round 25-3 e 33 un primo round abbastanza convincente convincente perfetto no convincente eh ci sta ci sta non lo so è convincente stai zitto stiamo già registrando da 6 minuti quindi oggi uscirà un video un bel video abbastanza lungo voi che vi piacciono i video lunghi i videi lunghi un po' meno a me che devo caricarti la voce su internet però però dai però dai cazzo sono a 155 punti dal visat leo grande se prendiamo se prendiamo il visat è finita vabbè vai a cagare dai vediamo ho anche lo shite però non posso usarlo perché non posso usarlo perché è inizio partita questo alleato che mi sta attaccato ma ti devi levare bravo arriva da qua questo visat grande arriva questo da qua no l'hanno ucciso muori abbiamo un alleato con il cecchino che sta castigando mi ha ammazzato no vabbè c'è un wright all'avversario attento lo butto giù wright non so che cazzo si raga dovete sapere che io ho sempre lancia missili a portata di mano no no cazzo sono un idiota ero anch'io tipo sulle 12 13 non so quando sarò stato e sono morto anch'io dal wright perché mi sono dimenticato che c'era sono un idiota si ma come l'hanno chiamato rispondi a questa domanda come cazzo l'hanno preso ti vuoi che l'abbia chiamato tangui violentando si vero ci stiamo facendo un culo che non finisce più eh si nell'approvvigionamenti perché infatti alla fine del primo round quando stavamo andando a prendere C c'era un approvvigionamento su C e a quanto pare c'era dentro il wright che cazzate veramente devo morire per il wright in serie si anche io ero in serie più o meno non so quando fossi penso mi torno alle 15 perché comunque avevo il vice anche se fossi 2 per un wright regalato no morto a 5 punti da un altro elstorm stiamo facendo lo stesso identico risultato 35-5 a 35-5 vengare vado io eh il fosse uno in b ma perché mi si appiccicano tutti gli alleati cazzo ma cazzo mi vengono troppo il bello è che gli alleati ti si appiccicano e ti rompono il cazzo poi quando c'è da uccidere i nemici no non ci sono cioè ok perfetto una bella doppia di kn no comunque raga li stiamo devastando cioè penso che sia un devasto di quelli quelli rari assurdi vediamo di riuscire a provare a fare 100 kills in 2 beh no non esageriamo su ah beh guarda ce ne mancano tanti perché comunque 2 in senso no ma comunque se riusciamo a fare 100 kills in 2 è top perché stanno giocando senza oddio tripla stanno giocando senza ricompense Leo cioè senza ricompense fare 50 kills cioè vabbè io ho l'Hellstorm ma chiamalo ricompensa l'Hellstorm ha fatto 2 kills perché giochi con l'Hellstorm eh non lo so ce l'avevo già nelle streaks non mi chiederei davvero il perché penso che te le sai scegliere le streaks dai 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 doppia solamente sono a 290 punti da un altro visa perdiamo bravo che cazzo mi è successo oddio un nemico mi è il tipo che si è un disco oh cazzo aiuto anzi prendono c questi simpaticoni ma è meglio così magari la partita dura un po' di più tanto loro sono indietro indietro si no 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 festeggiamo perché me li sto inculando tutti me li sono fatti seri guarda qua ah sono morto ancora prendendo T'ho chiamato il Visat no comunque ragazzi stiamo facendo una cosa li stiamo stuprando ma male e ha mille live per questo video palese proprio ma davvero stiamo facendo qualcosa di mai visto cioè forse mai visto no ma davvero masageriamo però li stiamo credo che siamo in live e poi con le ricompense non letali guarda porca guarda stiamo giocando davvero bene risultati simili tutti e due vieni a prendere C vieni a prendere C ma questo che non vuole morire vediamo C elstrom di nuovo no non c'è nessuno muore doppia vai 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 rinasciamo ok che c'hanno il vision pulse beh tanto non mi hanno etichettato col vision pulse vabbè comunque certi spongero sono una kill dal bisat ok sono morto ma non vai giù questo coglione no non conquistiamo più le bandiere non conquistiamo più le bandiere lascia che prendano C sa che io non sono uno che conquista ah ha fatto una cazzata sono andato troppo in mezzo alla gente vabbè ormai C qua la prendo perché il compagno la prende no no fama durare si vabbè ma che cazzo la stava prendendo il compagno senza disturbi quindi è stato abbastanza che poi loro raga cioè se guardate non sono neanche gente a livello 3 4 che dice sono inesperti non hanno mai giocato cioè è tutta gente col prestigio cioè stiamo proprio facendo gente con experience stiamo facendo qualcosa di spettacoloso io comunque non riesco a giocare oggi non so perché mi sento proprio le mani strano ma che cazzo hai 60 kills no ma fidati cioè sto sparando proprio male mi sento le mani addormentate non so se prende quella sensazione di merda fastidio è come il mio braccio perché ragazzi dovete sapere che no 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 porca troia una dall'Hellstorm sono cascato giù come un idiota vai 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 finita ora ragazzi è 63 abbiamo fatto 126 kills in 2 senza ricompense e solamente 20 morti cioè abbiamo fatto praticamente lo stesso risultato cioè assurdo 9000 punti 9800 ho fatto puttana Leo ho fatto 3 livelli sta partita 2-3 livelli minchia ragazzi io spero davvero che il video vi sia piaciuto se è così invito a lasciare un mi piace un commento ma soprattutto passate sul canale di Leo che davvero meritiamo dopo questa partita abbiamo fatto una strage poi siamo anche stati sincronizzati in una maniera proprio precisa vabbè ragazzi passate sul suo canale infatti a livello uguale stesso risultato poi guardate quelli contro tipo 1 al terzo 2 al secondo beh mi è piaciuta lasciate un mi piace un commento iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto per oggi da Mirina è tutto e bella bella ragazzi ciao a tutti grazie